Un bel gesto di solidarietà, i neotemplari cavalieri del Tempio di Cristo della Commenda Milizia Cristi hanno donato materiale scolastico e di cancelleria alle famiglie della parrocchia della Sacro Cuore di Taranto. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato, oltre al commendatore Gianfranco Maffucci, i nobili fratelli Franco Capriglione, Alfredo Luigi Conti, Claudio Walterprete, Maglio Di Polito, Idaiannelli e il presidente della Caritas parrocchiale Vincenzo Aversa. La professoressa Idaiannelli, gran referendaria, spiega lo spirito dell'iniziativa. Aveva appunto l'idea di promuovere una raccolta fonti tra di noi, che facciamo parte dei cavalieri, per predispondere del materiale didattico. Nel nostro piccolo l'idea era quella di portare un sollievo, diciamo qualcosa di utile rispetto alle solite caramelle, cioccolari, vanettoni che si fanno nel periodo natalizio. Siamo certi che avrete modo di apprezzare e sicuramente continueremo, nelle nostre possibilità, a fare qualcosa di utile per voi. Grazie. 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 Grazie.